Musica 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 Grazie, le avete ricordate queste canzoni? Non ho sentito, si? Ah bene, e allora dopo questo midlio vi voglio anche ricordare sempre gentilmente le persone che sono sedute e che hanno già mangiato di dare anche spazio alle persone che non l'hanno fatto ancora, grazie da parte della direzione e allora a questo punto come dicevo oltre all'amico il signor Enne che ci ha voluto qui questa sera fortemente volevamo anche ringraziare tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa... Musica 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 Grazie a tutti. 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 No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.